In Italia ci sono molte culture. Un anno fa sono stato a Parigi. Andiamo in vacanza in Spagna. La città di Pechino è in Cina. Il concerto è stato a Napoli. Sto per andare in ufficio. Claudia abita in questa via. Abito a Napoli da quasi due anni. Lisbona si trova in Portogallo. Stasera vado a mangiare fuori. Di solito compro in quel negozio. Dopo do a Claudia il suo regalo. In Francia si mangia molto bene. Torno a casa dopo le vacanze. Vado a fare un po' di sport. Dopo sono a cena da un amico. Voglio andare in vacanza a Pisa. Sono stato in ufficio a lavorare. Oggi dobbiamo andare a piedi. L'autobus è arrivato in stazione. Oggi posso andare a nuotare. Carlo è nato a Milano. In Italia. È italiano. Abito ad Atene. In Grecia. Sono greca. Luca non è tedesco, ma va a Bonn. In Germania. Lui viene da Londra. In Inghilterra. È inglese. Claudia è di Parigi. In Francia. È francese. Roberto è di Berna. In Svizzera. È svizzero. Lidia abita ad Algeri, ma non è algerina. Chi è nato a Palermo è un palermitano. Chi è nato a Firenze è fiorentino. Sua zia è giapponese. Viene da Tokyo. Carlo è di Milano e lavora in Svizzera. Mario viene da Firenze. In Toscana. È toscano. Claudia abita a Madrid. In Spagna. È spagnola. La Germania è in Europa. È un paese europeo. Domani andrò in montagna. Fra tre mesi sarete in vacanza. I genitori di Luca partiranno per Pisa. I turisti torneranno a casa domenica. Domani pranzeremo alle 14.30. Luigi porterà i suoi figli in gita. Il latte non basterà per domani. Voi berrete il latte a colazione? Loro andranno al mare per un mese. Lei verrà domani da te. Noi saremo contenti di vederti. I miei amici avranno presto il libro. Noi dovremmo aiutarla a finire. Tu avrai il coraggio di dirglielo? I giornali. Lo studente. Il libro. Il giornalista. Lo xilofono. Gli olandesi. Gli uomini. Gli uomini. Le barche. I fiori. Gli scherzi. Le amiche. Gli alberghi. Lo sconto. Le cassette. Le cassette. Il nome. Il re. Il tema. L'amico. lo sconto i castelli i cantanti i laghi l'uovo gli inglesi i coltelli il cesto gli anni lo sbaglio stasera andiamo in discoteca i bambini vanno al ristorante luigi va in montagna a sciare oggi devo andare dal dottore vado in vacanza in autunno gli altri sono andati in città appena esco vado in banca sabato vado a un matrimonio domattina andiamo da paolo andate al mercato più tardi sono appena andati al bar oggi vado a letto alle 10 ad agosto andiamo in italia vado a lisbona in macchina l'ho mangiato anche stavolta non ci ho nemmeno pensato non sono uscito neanche oggi non voglio neppure una mela avete aspettato anche troppo lunedì ci siamo perfino divertiti pure voi fate la spesa la sera non ci sono nemmeno andato ho guidato perfino in campagna forse non ce n'è anche Luca la mia auto ha anche la radio neppure in spiaggia c'è gente pure Claudia è uscita dal bar il mio amico è anche un atleta oggi non sono in ufficio prima sono stato al bar stasera andiamo al cinema domani andate in pizzeria ogni anno vado in vacanza in estate sto spesso al mare la mia casa si trova in città fai la spesa al supermercato compro la frutta al mercato devo andare in farmacia Luca adesso abita in centro sei salito fino al terzo piano la mia casa è in campagna è arrivato appena in tempo ho visto un film in televisione loro sono stati al matrimonio dopo metto le lasagne in forno vado laggiù una volta al mese ho rotto lo specchio in bagno Luca non può andare al bagno dobbiamo andarcene in fretta Claudia leggeva molti giornali i miei genitori parlavano sempre spagnolo io stavo in macchina mentre aspettavo noi mangiavamo la pasta tutti i giorni loro festeggiavano ogni sabato sera voi ballavate molto durante le feste mio cugino viaggiava con l'aereo le bambine giocavano con le bambole io e te ascoltavamo la musica classica lui frequentava la scuola tedesca tu e loro correvate sul campo da calcio il mio amico sapeva tante cose Giorgio si svegliava sempre tardi la lavastoviglie funzionava male stasera andiamo al cinema stasera si va al cinema arriviamo a casa alle 10 si arriva a casa alle 10 studiamo le lingue classiche si studiano le lingue classiche si fermano due giorni in città ci si ferma due giorni in città devono essere puntuali si deve essere puntuali si svegliano presto la mattina ci si sveglia presto la mattina devono essere fatti dei compromessi si devono fare dei compromessi possono essere trovate altre soluzioni si possono trovare altre soluzioni devono abituarsi a questo orario ci si deve abituare a questo orario devono agire più prontamente si deve agire più prontamente hai comprato gli spaghetti? sì, li ho comprati hai letto il giornale? no, non lo ho letto hai pulito la tua stanza? sì, la ho pulita hai fatto l'aperitivo? no, non lo ho fatto hai buttato le cose vecchie? sì, le ho buttate hai venduto i vestiti? no, non li ho venduti hai invitato i tuoi amici? sì, li ho invitati chi ha chiuso le finestre? le ho chiuse io chi ha cucinato la pizza? la ho cucinata io avete mangiato le mele? sì, le abbiamo mangiate hanno perso le chiavi? no, non le hanno perse avete ascoltato la lezione? sì, la abbiamo ascoltata hanno letto i libri? no, non li hanno letti avete sentito la notizia? sì, la abbiamo sentita hanno guidato l'auto? no, non l'hanno guidata abbiamo pagato il conto? sì, lo abbiamo pagato sì, le ho sono le ho sonore le ho sono le ho